E' stata una lunghissima battaglia legale, durata quasi un secolo. Oggi, grazie ad un'operazione dei Carabinieri, sono stati ricoprati i manoscritti dello scrittore siciliano Giovanni Verga. I particolari con Roberto Alaimo. Il paradosso della storia dei manoscritti di Verga è che per raccontarla ci vorrebbe la pena di Pirandello. Una vicenda che attraversa almeno un secolo e un paio di generazioni, cominciata negli anni 30, quando il figlio di Giovanni Verga consegnò gran parte dell'archivio del grande scrittore catanese a uno studioso di Barcellona Pozzo di Gotto. Da quel momento in poi comincia la battaglia degli erei di Verga per ottenere la restituzione di quelle carte, una battaglia che sembra essersi conclusa adesso con il sequestro avvenuto fra Roma e Pavia di tutto il corpus, che comprende 36 manoscritti fra romanzi e novelle e poi lettere, disegni, appunti e anche materiale archeologico di discreto interesse. I Carabinieri che hanno effettuato il sequestro su ordine della procura di Roma hanno creduto di attribuire al fondo verghiano anche un valore in denaro, attorno ai 4 milioni di euro, considerato che tutto il materiale era sul punto di essere venduto all'asta. Le carte in questione a suo tempo erano state consegnate allo studioso per essere catalogate, dopodiché né lui né i suoi eredi avevano acconsentito la restituzione. Questo non aveva impedito la vendita virtuale da parte della famiglia Verga alla regione, che negli anni 70 aveva sborsato 89 milioni di lire per del materiale di cui non era entrata in possesso se non in minima parte. Le carte di Verga adesso si trovano in custodia al fondo manoscritti dell'Università di Pavia, in attesa che la magistratura sciolga definitivamente questo nodo che riguarda più i codici che la letteratura in senso stretto. Grazie.